Ma esiste sì questo rischio, esiste perché siamo in una situazione emergenziale e che il trattato di Schengen non permette di controllare. Quando lei mi chiedeva ha ragione la Merkel o ha ragione l'Ungheria? Io credo abbiano ragione entrambi. La Merkel fa esattamente quello che noi avevamo chiesto di fare due anni fa al governo italiano, cioè ha messo a disposizione delle quote di accoglienza limitate perché dice non posso accogliere tutti ed è quello che noi abbiamo sempre detto. Accoglie solo ed esclusivamente chi scappa effettivamente dalle guerre, tra cui gran parte mi sembra abbia detto che lei accoglie i siriani e in più dice io faccio venire in Germania solo coloro i quali si fanno identificare. Questo è esattamente il procedimento che noi avevamo chiesto due anni fa al governo italiano. Capisco altresì la situazione dell'Ungheria che dice e secondo me giustamente nel mio paese non possono transitare o soggiornare o fermarsi coloro i quali entrano illegalmente. Insomma chi scappa dalle guerre effettivamente deve essere identificato e secondo me si fa identificare se scappa dalle guerre e deve essere accolto. Una situazione di questo tipo è una situazione di completa anarchia dove in Europa entra e come è già successo in Italia e in Europa si corre il rischio di fare entrare anche persone che possono risultare anche pericolose dal punto di vista della sicurezza dei cittadini europei.